Dopo l'importante vittoria in casa con la Fermana, il Rimini torna ad affrontare il Ravenna in un derby che in Cino si giocava dalla stagione 2009-2010. A Corri spera di ottenere punti di salvezza anche in esterna, visto che il Rimini, dopo il pari con Vicenza e con la Gianna Ermini, è tornata a casa con zero punti. Il Ravenna invece vuol continuare a ben figurare davanti al proprio pubblico, copione che sarebbe anche rispettato quando Soleri mette al centro per la testa i Gallupini, con la sfera che attraversa lo specchio della porta prima che l'ex Sant'Arcangelo Salvatore Papa si divori il possibile vantaggio. Il Ravenna fa la partita, Rimini agisce di rimesse al diciannovesimo Volpi, incontro più del portaspasso, pallone avversari prima di vedersi chiusa la porta da Venturi che esegue una super parata. Dalla bandierina nasce un'altra occasione per i biancorossi, Simoncelli per Danzo, la cui conclusione sporca diviene un passaggio per Ferrani, che trova sì coordinazione ma non precisione. Ravenna che si fa vedere nuovamente avanti con un calcio piazzato controllato da Scotti, primo tempo che si conclude a reti bianche, ripresa che vede subito protagonista Gallupini che dall'ennesimo calcio da fermo fa gridare a gol lo spicchio di curva giallorosso, disposto dito alla porta di Scotti, pallone fuori di un nulla. Illusione del gol che avviene 60 secondi più tardi quando nuovamente Salvatore Papa, già in gol con i Rimini nella prima partita di Coppa Italia di questa stagione, calcio al volo lasciando Scotti immobile ma salvandolo di nome di fatto dal Capitombolo. Tre minuti più tardi è la volta di Martorelli che pesca nocciolini ma Scotti blocca senza affanni, mentre al 63esimo Volpe fa buona protezione del pallone e si incune in aria prima di servire a Simoncelli un invitante pallone che l'esterno deposita in curva. Il Rimini concede molto e Ravenna continua a fare la partita, la cura core almeno in trasferta sembra non funzionare e se Selleri non sprecasse così un comodo contropiede dimostrandosi poco freddo nel momento di maggior conto, ecco che la frittata sarebbe per l'ennesima volta fatta. Giallorossi che provano all'84esimo a farsi vedere con un colpo di testa di Boccolini terminato alto, mentre nell'extra time Guiebre si ricorda che a Vicenza aveva già colpito la posizione la stessa ma non ogni calcio a pallone che termina abbondantemente a lato. E su questa conclusione finisce una partita a reti bianche dove Rimini torna a casa con un punto che dà morale, visti i recenti risultati in esterna ma che di sicuro non preme gli sforzi di un Ravenna che almeno a palle e gol ha fatto vedere qualcosina in più dei biancorossi. Il migliore, Volpe per i Rimini, sue le azioni più pericolose, occasionissima parata ad avventure e assist per Simoncelli spedito in curva. Per il Ravenna citiamo la prova dell'ex centrocampista di Sant'Arcangelo Salvatore Papa, sfortunato in fase realizzativa ma bravo a farsi trovare pronto nel momento. giusto.